Sgombriamo il terreno, di questo non parleremo, ci dica lei quello che si può dire del punto alle ore 4 e mezza di sabato di questo disegno, ne leggiamo anche oggi, ho visto su tutti i giornali, oppure non ne diciamo niente, ma si prende all'area di responsabilità, se no mi dicono quel somaro di Paolo Mieli aveva di fronte a Patuano e non gli ha chiesto, avete visto come glielo ha chiesto in modo energico, pungente, pugnace. Buonasera a tutti, Telecom Italia circa un anno fa ha iniziato un percorso di avvicinamento molto rapido ad essere una public company, quindi perdere questo concetto di un nucleo piccolo di azionisti che ne segnino il destino in modo particolare. Noi abbiamo aumentato la percentuale di investitori stranieri, di grandi fondi internazionali, c'è molto interesse intorno ad una storia di rilancio industriale, abbiamo fatto un completo ridisegno della governance che ha portato ad avere un consiglio di amministrazione direi molto moderno, siamo nove tredicesimi, sono indipendenti, due degli altri non indipendenti non lo siamo unicamente in quanto dipendenti dell'azienda, ma non dipendenti dai soci e dagli azionisti. E fino ad arrivare a quello che si è concluso proprio ieri, ieri abbiamo concluso un piano di azionariato per i nostri dipendenti che è andato in modo straordinariamente buono, oltre il 77% di eccesso di domanda rispetto al quantitativo di azioni che abbiamo offerto proprio per cercare di far partecipare di più i dipendenti alla vita dell'azienda, avremo circa alla fine di questo piano un 1,5% del capitale nelle mani dei dipendenti che su un'azienda grande come noi è una cifra molto importante, quindi è un'azienda che sta seguendo un percorso rapidissimo di avvicinamento a questa public company, intorno a questo ogni giorno ci sono speculazioni di ogni genere tipo, ma restiamo i fatti, questi sono i fatti. Ma la fortuna di questo percorso è dovuta al fatto che Telecom si è internazionalizzata, è dovuta a questa sua dimensione, cos'è che vi ha consentito di compiere un percorso rischioso ma virtuoso in anni in cui le altre aziende sprofondavano? Telecom certe volte non ricordiamo che è la quindicesima azienda al mondo di telecomunicazioni dove davanti a noi abbiamo dei colossi come possono essere i TNT, i cinesi, gli indiani, eccetera, quindi noi siamo costantemente nel top 5 in Europa, siamo ancora uno dei grandi player mondiali, abbiamo oltre 100 milioni di clienti nelle nostre aziende in tutto il mondo, abbiamo la quinta rete al mondo di trasporto di cavi sottomarini in fibra, Telecom è ancora una straordinaria realtà, una straordinaria realtà nel mondo della ricerca, noi i nostri ricercatori quest'anno hanno ripreso a produrre grandi quantità di brevetti, io credo che l'appetito intorno a Telecom Italia, l'appetito intorno ad una storia industriale che ha passato, inutile nascondersi, ha passato una serie di vicissitudini che con la nostra storia industriale avevano poco a che vedere e anche, io devo essere onesto, lavoro in questo gruppo da oltre 20 anni, da quando era pubblica alla privatizzazione, ai vari azionisti di controllo che ci sono succeduti e credo che sia venuto veramente il momento di tornare a parlare di una storia industriale veramente entusiasmante. E pensa, no aspetti, torniamo a quando lei era bambino, fine anni 60, lei che anno è nato? 64. Ecco, fine anni 60, aveva 6 anni, come vedeva, diciamo anche qualche anno più in là, come vedeva la sua storia? Lei era un bambino di Alessandria, no? Io sono nato ad Alessandria, mio papà faceva un mestiere un po' particolare perché era un ufficiale, per me quando avevo 6 anni era un soldato, che era un modo sintetico per descriverlo, e ci siamo abituati subito a viaggiare, a muoverci, e quindi come vedevo? Vedevo con un grande desiderio di allargare i confini del mondo, e questo mi ha portato poi in età adulta a lavorare buona parte della mia carriera all'estero e tutt'ora viaggiare moltissimo. Il mondo della comunicazione, quando lei era piccolo, cos'era la televisione, i giornali, si leggevano i giornali a casa sua? Io ero un lettore compulsivo, per cui leggevo tutto quello che mi passava davanti al naso, e amavo molto, c'era soprattutto mio nonno, mio nonno materno, che amava molto, era un uomo molto brillante, e amava molto che leggere il giornale insieme, perché lo divertivano molto le domande che gli facevo, e quindi leggere il giornale per me ancora oggi è un momento in cui spesso e volentieri mi tornano alla memoria queste cose, che sono piccole cose, leggere il giornale e poi andare allo stadio, ecco, questa è la domenica. Lei legge il giornale di carta la mattina? Quasi mai, leggo il giornale sull'iPad, per essere presente ne leggo più di uno. E questi giornali trovano una differenza leggendoli sull'iPad da quando li leggevo in carta? Molti sostengono. Secondo me è molto più comodo, però... Quello è evidente, però che sfuggono più cose, che si leggono più in fretta, è possibile? Nel mio caso no, devo dire la verità, non la dico. Poi capirete perché facciamo tutto. E quando legge il giornale sull'iPad schiaccia, guarda anche i filmati? Quasi sempre. Quindi vede anche la parte... Multimediale. Del Corriere della Sera. Sì, Corriere della Sera, Repubblica. E come la trovo? Ben fatta? Non ci faccio preoccupazioni che non mi offendo. No, trovo che sta migliorando rapidamente. Nel senso che all'inizio, diciamo, fino a un anno, un anno e mezzo fa, era abbastanza appiccicata. Primitiva. Era una cosa... Ma no, c'era scarsa integrazione tra la parte testuale e la parte d'immagine. Oggi si sta riuscendo a rendere le due più interattive, più sinergiche. C'è ancora un po' di strada da fare, ma è... E l'informazione televisiva? Guarda, guarda la televisione? Molto poco. E se guarda i telegiornali, ballerò? Come dico? Se guardo, guardo sport e talk show politici. E talk show politici. Radio? Mi sente? Sì, ma per piacere. Nel senso che è il momento della musica in macchina. La mattina? No, la mattina vedo Sky TG24 mentre mi rado e faccio... Io no, io Rai News 24, con la quale siamo collegati e che qui ringraziamo. No, a parte gli scherzi, Sky TG24 e Rai News 24 offrono un servizio spesso sottovalutato, ma molto importante, che sta catturando, almeno nel pubblico scelto, molti, varie fette di questo pubblico. Ormai quasi tutte le persone che conosco la mattina tengono accessi. Ma lei tiene acceso sui canali all news tutto il giorno? Nel mio ufficio ci sono alcuni monitor, uno è per la borsa e uno è di news, ovviamente, in muto, per all'occorrenza buttare un occhio. E lei, per il mestiere che fa, le notizie le apprende direttamente, le danno ai suoi collaboratori, insomma, le notizie che le interessano. Le capita talvolta di intercettare notizie anche attraverso i canali all news? Assolutamente, è una fonte molto immediata, molto viva. E poi i miei colleghi sanno che se qualcosa mi chiama l'attenzione, parte un meccanismo di approfondimento che coinvolge voi l'ufficio stampa, voi altri uffici che possono essere coinvolti. E lei per comunicare che canali esterni usa, preferisce? Se dovesse mettere una gerarchia? SMS, email, non mi piace molto la chat, uso Twitter. e poi, ovviamente, la telefonata canonica. Sto cercando di ridurre i miti... Twitter lo usa? Twitter lo uso, sì. Meno di quanto vorrei, ma lo uso. Ma quindi lei comunica delle cose? Il mondo a volte, al mondo dell'informazione, ha avuto occasione di apprendere le sue decisioni, le sue iniziative da Twitter? o è un modo in cui le dà dopo averle comunicato in altro modo? No, io sono più proattivo che reattivo, per cui capita abbastanza di usare Twitter in modo proattivo. Io sono poco propenso a commentare via Twitter, sono più propenso a comunicare via Twitter. E' una grande iniziativa, cosa fa? Convoca una conferenza stampa? Se è un momento importante, dà un'intervista a un importante giornale, a un importante telegiornale? Più press, che sia in formato tradizionale che in formato social, che non videocomunicazione. Telegiornale, video, eccetera, piuttosto poco. Continuiamo ad avere un rapporto molto buono con il mondo della stampa e poi con il mondo social. Vedi che cosa curiosa, lei tiene acceso tutto il giorno un canale on news, si informa, tra l'altro, ma quando decide di informare, io sono felice di questo, usa un altro metodo, non usa quello da cui viene informato. E tutto questo produce in lei un'occupazione giornaliera che quanto ammonta? Ma no, io sono... La lettura dei giornali, la mattina legge i giornali in quanto tempo? Diciamo, la lettura dei giornali, stiamo parlando di mezz'ora in auto che mi sto spostando, più un'altra, diciamo, un tre quarti d'ora di lettura dei giornali. Nel corso della giornata, diciamo che possiamo parlare di un'altra, sommando un'altra mezz'ora di guardare press, news, vari flash, quindi diciamo tra un'ora, un'ora e mezza al giorno. Lei è una persona molto particolare perché, come è noto, ha vissuto molti anni in Brasile, quindi questo modo, questo approccio al mondo dell'informazione è dovuto al fatto di non essere una persona che è stata sempre in Italia. quando incontra colleghi che invece sono più, hanno avuto un percorso più stanziale, hanno lo stesso approccio suo? Ma io vedo una grande differenza tra coloro i quali hanno avviato un percorso che io definisco always on, di questi che siamo maniacalmente sempre connessi e persone che lavorano più offline, quindi hanno, si danno i loro ritmi. Io credo che il fatto di lavorare in questa ultra connettività stia diventando assolutamente molto più una norma e direi anche in Italia, nei paesi anglosassoni probabilmente lo era già forse un po' prima. Da noi sta arrivando, ma è un'ondata, direi, abbastanza difficilmente frenabile. Lei ha detto che ha vissuto vent'anni in Telecom, quindi ha vissuto tutta la stagione, è entrato prima nella privatizzazione, si è fatto finché è balzato alla guida di Telecom. Questo suo approccio con il mondo dell'informazione complessiva ha cambiato il suo modo di... Cioè, quando lei è arrivato alla guida di Telecom, era una persona diversa da quella che aveva lavorato in Telecom in questi anni? Ma guarda, io sono arrivato alla guida di Telecom in un momento molto particolare, ovvero in un momento in cui l'azienda veniva da molti, molti, molti anni in cui si sentiva parlare di un unico tema, cioè del suo debito. Si diceva Telecom e si parlava del debito di Telecom. Se lei fa caso negli ultimi sei mesi, del debito di Telecom se ne parla molto meno, se ne parla, diciamo che è uscito dal radar, perché? Perché dal primo giorno io ho cercato di tornare a dire all'azienda, un'azienda che si preoccupa solo dei propri debiti, è un'azienda che ha segnato la parola fine alla propria storia. E quindi dovevamo parlare di qualche cosa altro, dovevamo parlare di tornare a crescere, che voleva dire tornare ad investire. Adesso il fatto di tornare ad investire l'abbiamo metabolizzato, perché lo stiamo facendo, e quindi ho potuto dire un'altra cosa alla mia azienda, che dobbiamo tornare ad assumere. E questo non è un tema che va probabilmente molto, va abbastanza di moda, ma nel nostro settore è determinante. Lei pensi che un'azienda che si occupa di innovazione, perché le telecomunicazioni sono innovazione, non assume dal 2006? Ogni anno abbiamo un anno in più, e quindi riuscire ad innovare all'interno di un'azienda dove l'età media adesso è 47 anni. Avete tagliato anche? Abbiamo anche tagliato, ma le devo dire, noi siamo passati attraverso tre fasi. Siamo passati attraverso una prima fase che era una fase di riduzione, dovevamo ridurre delle aree di sovrapposizione, di ridondanza, ma questo era abbastanza facile. La seconda fase che le direi si sta chiudendo adesso è una fase di riqualificazione. Noi confrontati ai nostri colleghi europei siamo piuttosto efficienti, abbiamo meno dipendenti per unità di cliente. Però bisognava riqualificare determinati lavoratori in quanto oggi giorno la vita di un lavoratore è più lunga della vita dell'esistenza di una professione, e quindi era una fase di riqualificazione. Oggi anche la fase di riqualificazione la devo considerare non più sufficiente. Adesso siamo in una necessità di rivedere il mix delle nostre professionalità. E per rivedere il mix delle nostre professionalità bisogna ritornare sul mercato del lavoro. Quest'anno abbiamo iniziato dalla parte altissima, abbiamo finanziato 100 PhD, abbiamo aperto collaborazioni con molte università in Italia, abbiamo formato masterizzandi, abbiamo fatto molto lavoro con il mondo accademico. L'anno 2014, ma soprattutto l'anno 2015, vedrà alcune migliaia di assunzioni. Scusi, lei dice negli ultimi otto anni abbiamo assunto, adesso è venuto il momento. Ma non avrete assunto, immagino, perché le condizioni economiche non ve lo permettevano, non perché avete scelto. Cioè siamo tanti amici, rimaniamo qua soli noi, è inutile far entrare altre persone. Che cosa è cambiato? Cos'è che vi consente oggi di assumere? Siete più ricchi? No, non siamo più ricchi. Abbiamo fatto un percorso, un grande percorso di efficienza. Però, come le dicevo prima, di efficienza si può anche morire. E quindi quello che dobbiamo fare adesso è un percorso votato a un cambio anche di business model. All'interno del mondo delle telecomunicazioni c'è un grandissimo cambio di business model in atto che richiede delle nuove professionalità. e quindi le direi che in questo momento è una scelta con poche alternative. Non è che ti trovi di fronte alla necessità di dire... Dovete assumere perché avete preso un nuovo modello di... Perché il mondo... È perché il mondo di internet, il mondo dove... Tutte le altre aziende del vostro tipo stanno facendo questo percorso? Le più innovative, sì. Le più innovative mi riferisco... In Europa? In Europa Deutsch Telekom l'ha avviato. Telenor l'aveva già avviato in Norvegia. Francia si sta ponendo la domanda. Pochi giorni fa ero con l'amministratore delegato di France Telecom e anche loro stanno pensando questo. Gli Stati Uniti non hanno mai smesso di farlo. La Corea lo sta facendo. Il Giappone lo sta facendo. Quindi è un percorso, le direi... È un'evoluzione abbastanza richiesta. Torniamo alla sua formazione. Lei quando entrò in contatto con la dimensione internet web era in Brasile? No. Dov'era? Io ero in Italia. Siamo all'inizio degli anni 2000. Come la conobbe appunto questa dimensione? Io al tempo avevo... Io al tempo ero il responsabile della finanza di Tim. Ancora Tim era separata da Telecom, eccetera. E avevo un capo che era una straordinaria testa pensante che un giorno ci chiamò e ci disse... Come si chiamava? Adriano Seimandi. Il quale... Un giorno ci chiamaci e dice, ragazzi, c'è qualcosa che non funziona in questo internet di cui tutti parlano e oggettivamente ne sappiamo troppo poco. Allora prese un gruppetto, eravamo in realtà quattro, e ci mandò per alcuni mesi in Silicon Valley a intervistare sostanzialmente da Carli Fiorina a aziende molto innovative al tempo, che oggi non esistono neanche più, come Informix, una nascente Google. Era stato molto interessante. E tornammo con alcune suggestioni molto profonde e soprattutto ritornammo con la fortissima convinzione che non bisognava mai smetterla di continuare a cercare di tenersi aggiornati su questo mondo. Ed allora io circa... facevo un conto qualche giorno fa, io dedico più o meno un 5% del mio tempo lavorativo a esplorare nuovi modelli di business, viaggiando molto. E le persone che fecero con lei, ha detto 4-5, ci mandarono a chi fine hanno fatto? Una signora adesso è un'imprenditrice, ha messo su una propria azienda che funziona anche molto bene, ha fatto anche moltissimi soldi. Uno è un senior manager del gruppo Vodafone, e un altro... Un altro è... È rimasto nella serie di Convalle? No, no, no. In questo momento insegna. Insegna. Lei lo fa di quello che è stato all'origine della sua fortuna professionale, 14 anni fa, di mandare 4 ragazzi, 4 persone più giovani, da qualche parte nel mondo a esplorare il futuro? Sì, noi abbiamo un gruppo che si occupa di strategia e innovazione, è un gruppo che lavora direttamente con me, e lavora in modo interfunzionale, per cui prende all'interno dei settori, della rete, del marketing, eccetera, e viaggiamo molto per andare a vedere nuove realtà. In questo momento, le direi, noi abbiamo tre aree del mondo che monitoriamo molto da vicino. Uno è la costa occidentale degli Stati Uniti, a cui aggiungiamo l'MIT, con cui abbiamo un rapporto di collaborazione, e questo è abbastanza ovvio. L'altro è il triangolo Cina-Corea-Giappone, e il terzo è Israele. Come mai Israele? Perché è un'altra frontiera della modernità? Assolutamente, Israele è uno straordinario bacino di innovazione, soprattutto relativamente al mondo del cloud e del cyberspace, incluso lo cyber security. Sottolineo per i giornalisti di Sonia un'immagine accattivante della sua azienda. Assumono, ti mandano in posti meravigliosi dove farai le tue fortune. Io la guarderei con maggiore attenzione, ma guarderei con sempre attenzione le vicende, con Telefonico, con il Brasile, con tutto quanto, però questa è anche una cosa che può interessare a qualcuno. Oh, meno male, perché io ho fatto una scommessa fin da quando sono nato, tutti lo sanno, con i telefonini, che non avrei mai assistito a una conferenza di questo tipo senza che squillasse un telefonino. Per fortuna l'ho vinta anche oggi. Io spero che rispondano, soprattutto se sono i miei clienti, che ci campo su queste cose. Allora, riaccendete tutti i telefonini per la gioia del dottor Patuano. Grazie, sì, per favore. Non siate timidi. E oggi provi a descrivere quali sono le frontiere su cui lei dovrà andare, insomma lei come azienda, dovrà andare nei prossimi cinque anni. Qual è la partita? Beh, ci sono sicuramente... Ci sono anche degli incompetenti in sala, quindi lo spieghi con un linguaggio il più piano possibile. Ci sono tre o quattro... E so chi sono gli incompetenti, uno per uno, poi l'interrogo all'uscita. Allora, ci sono tre o quattro grandi partite in corso che derivano da un grande cambiamento, però io le chiedo scusa, l'annoio con una piccola premessa di un secondo. Alcuni dei cambiamenti che si vedono oggi in realtà derivano da una strana combinazione di fattori che si sono dati negli ultimi anni, ovvero l'innovazione sulla componente più ingegneristica delle reti era già lì da tempo, come le dicevo prima, dall'inizio degli anni 2000. Se noi vediamo invece l'accelerazione di questa straordinaria ondata di internet è molto più recente. Perché? Perché deriva dalla combinazione di varie industrie che si sono evolute simultaneamente. Una è la capacità dei microprocessori che calcolano molto più rapidamente calcolano molto più rapidamente un allarme. La seconda è l'industria degli schermi. Se voi pensate l'industria degli schermi ha portato che questi telefonini hanno dei monitor molto accattivanti e molto belli. E la terza è tutte le tecnologie del cloud computing che permettono quindi di separare fisicamente la capacità computazionale o la capacità di archiviare i dati rispetto all'oggetto che abbiamo in mano. quindi che cosa determina questo? Beh determina alcune grandi sfide e qua rispondo alla sua domanda. La prima è una sfida che è quella che è più nelle nostre corde che è la sfida delle reti. Queste reti che dovranno trasportare sempre più dati in modalità sia fissa che mobile perché in realtà il cliente non non interpreta più il concetto di fisso di mobile in realtà se noi prendiamo un cellulare qualunque questo non è più un telefono mobile questo soprattutto è un telefono personale è il mio anche nel parlare tutti i giorni diciamo hai visto il mio telefono? Perché questo è il mio che è diverso da quello di mia moglie e per essere precisi non è anche più un telefono è un contenitore di passioni c'è la passione della musica la passione della fotografia la passione dello scrivere la passione del leggere ci sono tante passioni e quindi poi alla fine che questo oggetto personale usi una rete fissa una rete mobile in realtà io gli metto sempre più passioni e le passioni sono passate da un mondo scritto a un mondo di immagini quindi voglio vedere le foto voglio vedere un video voglio vedere il video che ha fatto mio figlio che a New York che mi ha mandato mentre si è appena tagliato i capelli a Soho quindi la prima è la sfida delle reti la seconda è la sfida dell'entertainment ovvero noi queste reti che stiamo costruendo queste reti ultra performanti che permettono di portare a casa di chiunque decine di mega di traffico di velocità di banda la vera domanda è cosa ce ne facciamo di tutta questa banda che arriva a casa beh molto semplice ci trasporteremo video e quindi quali video ci trasporteremo video di qualità che potranno essere il broadcaster che potranno essere la tv che potranno essere i film e quindi qua si apre tutto un grande un grande tema che è tutto il tema dei diritti d'autore dei diritti proprietà intellettuali su internet questo è un grandissimo dibattito la terza grande sfida è la sfida della sicurezza di questo spazio digitale la sicurezza di questo spazio digitale è un tema enorme che dobbiamo insegnare proprio da da bambini che quello spazio digitale è uno spazio dove ciascuno di noi porta la propria identità ma la propria identità deve essere gestita protetta ed evitare incidenti molto gravi e poi c'è una quarta sfida che è quello di riuscire a portare nuovi bisogni in questo mondo digitale e quindi parlo della scuola parlo della sanità parlo del cittadino digitale ma credo che sia interessante banalizzarli questi concetti perché se no facciamo fatica permettetemi un esempio molto semplice io da ragazzo mi procurai un grave problema ortopedico che succede che ogni tanto può capitare mentre viaggio ossessivamente intorno al mondo di avere dei dolori ortopedici se mi capita devo andare a farmi vedere da un medico il quale la prima cosa che mi chiede è ha una lastra con sé il che è una domanda talmente cretina che fai anche fatica a rispondere non è che vado in giro con le lastre è chiaro che se io le lastre gli potessi dire no non ce l'ho con me ma guarda su questo indirizzo internet e con questa password vedi la mia ultima lastra eviteremmo di farne un'altra che per me vuol dire sottoporre il mio organismo degli altri raggi X ma soprattutto per la sanità pubblica di fare un'altra sostenere un altro costo quindi queste sono quattro grandi sfide le reti riuscire a pensare quali servizi andranno su queste reti e pensarlo in modo legale i nuovi servizi che andranno e la sicurezza ma non sono quattro sfide tranne la terza quella sulla sicurezza le altre tre non sono già vinte non sono sfide addirittura d'arrivo nel senso la lastra quella della quarta riprende il suo esempio si può fare già adesso si può vedere già adesso se lei ha un indirizzo internet consultabile lì ha depositato la sua lastra anche se vai in Alaska la può vedere beh non è così semplice perché in realtà in Italia il sistema sanitario è regionale per cui che ammesso che tutte le regioni arrivino allo stesso punto di avanzamento il che non è è un problema delle regioni certo ma non è un problema tecnologico no no non è un problema tecnologico ma quasi nessuno di questi è un problema tecnologico mi conceda il vero tema che si sta ponendo nel mondo digitale è un tema non a caso io non sono un ingegnere è un tema che di ingegneristico ha molto poco ovvero in un mondo digitale dove i confini geografici non esistono possiamo applicare una serie di regole su scala geografica e questo è un grande tema proprio ieri sera parlavamo mi concede questa piccola digressione ieri parlavamo della prendendola un po' alla larga del diritto di diritti d'autore e quindi immaginiamo della siamo poi andati a parlare di privacy allora in Europa il concetto di privacy è considerato un diritto dell'uomo e come tale è indisponibile o meglio lo posso rendere disponibile in determinate secondo determinate modalità ma è un diritto dell'uomo negli Stati Uniti è un diritto commerciale che cosa fa questo rende il fatto che la privacy per un'azienda americana possa essere esplorata secondo una modalità infinitamente più semplice di quanto non sia per un'azienda europea qual è il risultato se prendiamo le prime 25 aziende che si occupano di economia digitale facebook google e così discorrendo le prime 24 sono nordamericane e la prima europea è la venticinquesima non è un caso deriva dal fatto che noi stiamo applicando una differenza di norme di regole che però non sono è proprio una differenza profondamente concettuale allora proprio nei giorni scorsi ci siamo trovati a Venezia con Matteo Renzi in ottica di orientare il semestre di presidenza europea e questo tema l'abbiamo affrontato l'abbiamo posto come molto molto stringente non è un tema dell'Italia è un tema dell'Europa lei dice che cambiando le norme mettiamo che cinque aziende italiane cinque aziende europee potrebbero finire tra le prime 25 mondiali noi abbiamo delle norme che ci fanno da zavorra questo è questo è certo questo è certo ma non è solo questo ma ce le siamo date ce le siamo date perché abbiamo una profonda abbiamo tutta una serie di approcci molto diversi sui due lati dell'oceano quella della privacy è solo una perché noi per esempio prendete il tema della della concentrazione dei mercati in Europa ad un certo punto si è ritenuto che il modo per per trasferire valore per creare valore fosse aumentare costantemente il livello di concorrenza il che detta così suona anche bene che cosa ha portato ha portato per esempio che nel settore delle telecomunicazioni ci sono in Europa circa 130 operatori di telefonia negli Stati Uniti facendo un'approssimazione dicendo che più o meno gli Stati Uniti nel loro insieme valgano quanto un Europa ce ne sono quattro in Cina ce ne sono tre in Corea ce ne sono tre allora che cosa ha portato ha portato che le risorse a disposizione per l'innovazione nel lato europeo erano molto frammentate venivano sì assorbite della quantità produceva tanta quantità per produrre tanta concorrenza con il risultato che quelle facevano massa questa quantità attenzione non tutto è stato non tutto è stato sbagliato per esempio se noi prendiamo mediamente il costo mensile di un telefono cellulare in Europa e negli Stati Uniti in Europa costa molto meno che negli Stati Uniti peccato che poi gli Stati Uniti ci hanno superato in termini di innovazione tecnologica allora io credo che ci sia stata una stagione molto opportuna dove la regolamentazione europea si è curata soprattutto di virgolette democratizzare l'accesso al servizio nella seconda metà degli anni 90 non eravamo in testa tutto ma di gran lunga io mi ricordo che nella seconda metà se voi vedete i film della seconda metà degli anni 90 vedete che nei film americani usano degli attrezzi che sono antidiluviani rispetto a quelli che si usavano in Europa e in Italia anche dal 95 dal 95 al 2000 cosa fu che poi fu esattamente quello che ho detto ma le do anche un altro dato che secondo me è più preoccupante perché noi siamo portati a vederlo dal lato del consumatore finale mi permetta di tornare alle mie antiche passioni di economia vista un po' più dall'alto alla fine degli anni 90 in Europa lavoravano circa 220 mila ricercatori di telecomunicazioni che erano in Italia in Francia in Germania in Svezia in Finlandia in Inghilterra aziende che oggi non dicono più niente come Marconi come la Siemens telecomunicazioni come oggi Nokia sappiamo tutti che fine ha fatto sono passati 15 anni in Europa i ricercatori sono 90 mila e la ricerca si è spostata a Est quindi in Cina e tutti dicono si è spostata a Est perché costa meno manco per un no si è spostata a Est perché ce ne sono tanti sono anche bravi ma soprattutto si è spostata a Ovest è andata in Silicon Valley dove tutto è tranne che costare di meno allora rispondo alla sua domanda cosa l'ha determinato secondo me l'ha determinato una importanza un'importante mancanza di visione di politica industriale a livello comunitario a livello comunitario noi ci lamentiamo spesso del fatto che in Italia c'è stata poca visione di politica industriale se ce n'è stata poca in Italia in Europa ce n'è proprio stata zero l'Europa qua è un'entità generale ci sono dei paesi europei che hanno fatto eccezione almeno in parte a questo ragionamento c'è qualcuno che lei lo direbbe dei paesi europei in parte nel mio settore io le parlo del mio settore in che stagione le direi tra il 2000 e il 2005 le direi Germania Spagna e Scandinavia dove il più sorprendente è la Spagna ovviamente più sorprendente è la Spagna ma hanno lavorato molto bene bisogna dargliene altro vado avanti scusi l'ho interrotta diceva l'Europa con le eccezioni che vi ho detto l'Europa ad un certo punto resta un po' indietro resta indietro in una visione di politica industriale dove in realtà si preoccupa forte del concetto siamo i più avanzati siamo i più forti si pone nell'ottica di dire cerchiamo di trasferire valore sul cliente finale perché queste aziende che sono aziende di tecnologia e di innovazione stanno guadagnando molto il che peraltro ci poteva le dico la sincera in realtà ci poteva benissimo stare peccato che hanno fatto un grande passo di modernizzazione volevano fare dei soldi su quel passo di modernizzazione è normale e fin qua tutto bene siamo intorno al 2005 e intorno al 2005 non ci si rese conto a livello europeo che stava arrivando un'altra grande ondata di discontinuità tecnologica allora nelle ondate di discontinuità tecnologica la vera grande differenza la fai se ti muovi immediatamente se la cavalchi non se la subisci anche se hai l'antenna per vederla esattamente coloro i quali erano rimasti indietro avevano anche poco da perdere e quindi ci si sono buttati e mi riferisco gli Stati Uniti per colmare un gap che avevano verso l'Europa e il Far East per motivi geopolitici molto differenti aggiungiamo anche un altro grande elemento l'altro grande elemento è proprio un tema di di un enorme cambiamento rispetto alla capacità e alla possibilità di sviluppare azioni militari le azioni militari diventano molto più economicamente sostenibili in un mondo cibernetico che non in un mondo fisico quindi il potere delle informazioni vi faccio un esempio così ci capiamo un programma per fare un hacking e ottenere delle informazioni super riservate costa alcune centinaia di migliaia di diciamo pochi milioni di euro un singolo aereo da caccia ne costa molti di più quindi se io devo cercare di ottenere informazioni è molto più efficiente farlo in un modo cibernetico piuttosto che in un modo fisico allora l'insieme di tutto questo fa sì che in varie parti del mondo ci sia una grande spinta a cavalcare questa innovazione tecnologica l'europa rimane ancorata a questo concetto assolutamente importante di aumentare il tasso di adozione di queste tecnologie riducendone i prezzi ha funzionato? sì i prezzi sono ridotti ci siamo persi un'ondata di innovazione la possiamo recuperare? allora se ci muoviamo molto rapidamente sì perché perché per assurdo i primi che si sono mossi su queste tecnologie innovative hanno anche fatto quello che tecnicamente si chiama il debugging hanno anche percorso tutta una serie di strade che poi si sono rivelate inefficienti o inefficaci oggi ormai dove si va dal punto di vista tecnologico è abbastanza definito e quindi bisogna farlo con grande con grande determinazione quali sono adesso i due o tre elementi importanti primo elemento importante come le dicevo è eliminare questa differenza di regole tra il modo con cui l'Europa il modo in cui l'Europa e gli Stati Uniti guardano allo spazio di internet il secondo è un tema di di favorire gli investimenti favorire gli investimenti è di nuovo un tema fortemente politico e quindi questo è creare un ambiente pro investimenti e il terzo è invece un di nuovo un tema un tema più ampio che è come creare in Europa degli ecosistemi simili alla Silicon Valley mi spiego in un secondo perché se no è un po' criptico la Silicon Valley è quello che è perché c'è un insieme in un'area fisicamente piccola di università di straordinario valore di aziende di tecnologie che si sono insediate nella stessa zona fisica di venture capital e quindi di finanza che si è insediata in quelle zone e di una cultura che vede nel nel fallimento l'averci provato colui il quale ha un'idea ci prova e non riesce non è un fallito è uno che ha provato l'idea allora se io credo questo lo riporto da questa parte dell'oceano noi abbiamo che le i grandi poli di ricerca universitaria noi ne abbiamo di eccellenti ma sono tra di loro molto fanno poco sistema le aziende guardano troppo poco alle università come luoghi dove fare dove vivere da vicino la ricerca e il venture capitalism non è favorito da neanche a livello normativo nel senso che fare nascere delle imprese in Europa diciamo noi diciamo sempre in Italia diciamo pure in Europa non è certo una cosa facilissima io c'è una cosa che non ho mai capito di questo mondo scusi approfitto di questa interessantissima chiacchierata per chiarire perché essendo nato tutto negli anni 80 anzi dalla fine degli anni 70 negli anni 80 l'asile con Valle gli Stati Uniti per quasi un decennio poi negli anni 90 si sono fatti soffiare il grosso dell'affare dall'Europa in parte e dall'Asia in un'altra parte per poi riacquistarlo scusi semplifico riacquistarlo probabilmente anche in seguito all'11 settembre e allo sviluppo di programmi militari all'inizio degli anni 2000 la terza parte ce l'ha già detto quella degli anni 2000 ma com'è possibile che chi vede nascere una cosa se la faccia soffiare in maniera così consistente dietro questa domanda c'è che in fondo l'Europa può riapproparsi del ruolo che ha avuto in passato perché tutto è molto mobile in questo campo non è detto che se uno ha piantato delle bandierine poi ha garantito i prossimi 50 anni questo è il sottinteso o sì no me lo dica lei allora dice si Silicon Valley da silicon cioè silicio quindi la Silicon Valley nasce sull'ondata delle tecnologie del silicio e quindi lei si è già risposto questo già ci risponde a qual è il primo momento della Silicon Valley è il momento dei microprocessori è il momento del della prima ondata di computerizzazione del del mondo e attenzione c'è una grande differenza tra quegli anni e oggi ma la potete vedere nella vita di tutti i giorni se voi pensate io mi ricordo quando ero quando ero non più bambino mi riferisco a quando stavo frequentando il liceo se io volevo utilizzare un computer andavo in ufficio in ufficio da mio papà perché a casa era impensabile avere un computer e quindi l'innovazione era innovazione che passava l'innovazione tecnologica passava dalle imprese oggi se voi prendete la casa di ciascuno di noi molto spesso ha molta più innovatività di quanto c'è nell'ufficio di ciascuno di noi quindi si sta venendo a verificare quello che si chiama la consumerizzazione dell'innovazione allora questo è un aspetto molto interessante che lo mettiamo da parte per un secondo il primo punto è la silicon valley nasce sul silicio a metà degli anni 90 il l'elemento determinante non è più la computerizzazione ma la connettività e in un certo senso la mobilità della connettività nel mondo vengono nei laboratori di ricerca nascono due tecnologie la tecnologia GSM che è quella che adotta l'Europa lo standard adottato dall'Europa e un altro standard che adottano gli americani cosiddetto CDMA immaginiamo standard numero uno e standard numero due a livello mondiale si impone lo standard scelto dall'Europa perché perché i nostri laboratori di ricerca avevano lavorato benissimo e quindi avevano sviluppato un sistema che utilizzava molto bene una risorsa scarsa che erano le frequenze le frequenze del GSM venivano utilizzate meglio che le frequenze nel CDMA e quindi si impone a livello mondiale con delle enormi sinergie di scala gli Stati Uniti la tecnologia CDMA rimane solo di fatto negli Stati Uniti e quindi non raggiungono mai una scala confrontabile con la tecnologia europea arriviamo negli anni 2000 e c'è un altro cambiamento che entra la cosiddetta tecnologia IP l'internet protocol gli Stati Uniti capiscono che questo lavorando sull'internet protocol e lavorando su altre tecnologie la fotonica e quant'altro avrebbero potuto rapidamente recuperare questo gap investono molto pesantemente e recuperano il gap quindi è una serie di ondate di innovazione successiva lei si è trovato durante questo percorso l'abbiamo detto più volte in Brasile è situato in Brasile in un momento particolare cioè era il momento in cui Brasile passava dall'essere un paese di poveri disgraziati a essere una delle prime cinque potenze mondiali che cosa ha reso possibile una domanda laterale una cosa fatta in così breve tempo un salto di quelle proporzioni so che i problemi di Brasile non sono risolti no no ma lei ha ragione è stato un miracolo macroeconomico si vedeva no allora quando noi siamo arrivati io arrivo in Brasile alla fine del 2002 e poi con la mia famiglia nel 2003 noi stavamo parlando di un paese in cui l'indice della povertà era stabilmente sopra il 50% da sempre considerate che in un decennio l'hanno portato dal 50% a sotto il 20% è letteralmente un evento che non ha altri precedenti nella storia in quegli anni io ricordo erano gli anni che si stava esaurendo il ciclo di Fernando Enrique Cardoso che io ho avuto il privilegio di conoscere molto bene in quanto per motivi vari ero molto amico di una persona del suo staff il professor André Urani che purtroppo è scomparso poco tempo fa e quindi Fernando Enrique capisce una cosa con la lucidità che lo caratterizza ovvero che l'aver aperto l'economia brasiliana secondo un processo di privatizzazione non sarebbe bastato se non avesse fatto un maggior percorso di inclusione sociale quindi fosse riuscito a ridurre questo zoccolo di persone sotto la soglia della povertà e si rende conto Fernando Enrique che solo un uomo della sinistra avrebbe potuto portare un discorso di questo tipo Fernando Enrique è un liberista per cui lui non avrebbe potuto portare questo discorso e mi credo l'elite economica brasiliana le direi le 20 famiglie più influenti del Brasile favorirono in un certo senso l'ascesa di Lula o quantomeno tutto fece tranne che opporvi sì e l'ascesa di Lula fu determinante assolutamente determinante assolutamente determinante ma non solo e unicamente per Lula ma per il fatto di aver reso possibile lo sviluppo di un movimento culturale a cui hanno partecipato tanto forze liberiste quanto forze della sinistra ed era una Lula all'inizio va al governo con una squadra di governo che includeva José Derceu Guggen includeva una serie di persone con un passato di sinistra rivoluzionaria non stiamo parlando di un passato di sinistra democratica e rapidamente rapidamente trovano un modo di amalgamarsi questa visione di sinistra inclusiva con i capitali che derivavano dalle grandi famiglie aggiungete che il Brasile è un popolo straordinariamente nazionalista un brasiliano che sogna di diventare ricco sogna di essere ricco in Brasile non in Svizzera e quindi tutto questo ha creato un clima magico a cui si è sommata una serie di scelte di politica macroeconomica assolutamente indovinate continuate dove si è vista molto la mano della squadra di Fernando Enrique la politica monetaria tassi di interesse alto evitare che si determinassero di nuovo situazioni di inflazione è stato veramente un lavoro molto ben fatto le ho già strappato la promessa di fare da uomo ponte di queste conversazioni di tornare qui all'inizio dell'anno prossimo scusi al festa dei due mondi dell'anno prossimo se rifaremo le conversazioni questo lo decideremo in secondo momento per questa volta per non fare del chiacchiericcio non parliamo di politica non le chiedo l'opinione di Matteo Renzi la costringerei a dire delle cose generali nel senso che l'ha conosciuto come ci ha appena detto ma le chiedo una cosa che è dietro e che ha a che fare con il discorso che ha appena fatto sul Brasile secondo lei fermo restando che Lula è diversissimo da Renzi non hanno quasi niente in comune ma la scommessa trasversale che c'è dietro Renzi cioè il fatto che all'improvviso si presenta un giovane ragazzo di sinistra e il mondo il mondo politico italiano le 20 famiglie 40 famiglie italiane sospendono una guerra dei 20 anni che si erano fatte di cui anche lei avrà percepito in telecom l'eco ampiamente diciamo ampiamente peccato che giornalisticamente non si possano registrare le facce però televisivamente sì secondo lei sta accadendo in Italia ha capito quello che domanda non le domanda su Renzi ma su che significato ha questa scommessa sul voltar pagina presentarsi con una persona un capo del governo che ha in comune con Lula di essere empatico di rompere le barriere di venire da sinistra ma senza voler fare il dottrinale senza voler fare il settario ma io ci vedo non c'è un paese che sta riscommettendo su se stesso per provare a vedere secondo me allora io sono convinto di sì sono convinto di sì perché stiamo riuscendo forse a cogliere un momento dove parlare di destra di sinistra oggettivamente ha perso molto dell'appil di un tempo oggi definire dove finisce il confine di una sinistra dove inizia il confine di un centro-destra oggettivamente è abbastanza difficile ci sono alcune cose che bisogna farle basta dobbiamo far lavorare i nostri ragazzi fine della questione dobbiamo riuscire a rimettere in moto un percorso di crescita dobbiamo fare tutta una serie di cose che richiedono un movimento un movimento collettivo e credo anche che stiamo esaurendo il il momento del del dogmatismo assoluto quindi che poi sono stati stagioni dove si provava con la stagione dei professori piuttosto della stagione dei saggi piuttosto della stagione degli esperti e forse in questo momento quello che serve è la stagione del buonsenso il buonsenso alla fine lo stiamo un po' recuperando lei si aspettava che la stagione dei professori tecnici esperti saggi richiami come lei fosse così deludente no assolutamente no io ci riponevo molta speranza le dico la sincera possiamo dirne che ne traiamo un insegnamento che la politica se no tutto il mondo si affiderebbe a saggi professori ed esperti ma la politica ha delle sue dinamiche perché porta con sé il consenso il coinvolgimento delle persone che votano che ci credono e se uno si presenta lei ha l'aria di essere molto competente ma se si presenta senza aver raccolto prima il consenso necessario il coinvolgimento le simpatie le emozioni e dice vabbè io ne so tanto sono vent'anni che faccio questo mestiere risolvo io i problemi in fondo è probabile che sia destinato a un insuccesso perché la dinamica delle politiche è nel trasferimento delle emozioni e della forza della rappresentanza perché se no sarebbe facile sì quello che dici è assolutamente vero c'è un tema però di leggere i bisogni delle persone leggere i bisogni delle persone vuol dire non essere troppo lontani dai bisogni di queste persone mi conceda forse un esempio non particolarmente arriverete ad un certo punto siamo passati dalla stagione dei professori di teologia alla stagione dei pastori della chiesa questo non è che è un bisogno che si sentiva solo nel mondo dell'economia la nostra società ha avuto un momento dove lo sbandamento è stato uno sbandamento molto più ampio che uno sbandamento di economia mi permette di parlare di un'azienda però sa noi siamo un'azienda con 53 mila persone io sono più grande di Asti stiamo parlando di un sindaco certe volte e ad un certo punto quello che cosa pensa il tuo collega là in fondo che va in giro nel nostro caso che va in giro con la banda o che risponde al customer care non puoi far finta di non saperlo perché lo sai è che è talmente scomodo dover andare ad affrontare il problema vero che allora fai finta di raccontarti una storia e dopo un po' che te la racconti finisce anche per crederci allora che certe certe dinamiche all'interno delle aziende all'interno del mondo economico all'interno non possiamo neanche dire che non si spedono ma anche parliamo anche se volete all'interno della chiesa questo straordinario parla che abbiamo non è che sta dicendo delle cose che non si sapessero e che cosa c'è di dirle ma te Lorenzo non è che stia dicendo delle cose rivoluzionari sta dicendo delle cose che la gente semplicemente si raccontava al bar e diceva ma santo cielo ma com'è possibile che quello che sta al Parlamento non si accorge di una cosa che qualunque uomo che va al bar e si mangia un cappuccino si rende conto lo stesso nel mondo delle imprese allora io per esempio sto vedendo un cambiamento epocale nel mondo sindacale il mondo sindacale ha messo io le parlo dei sindacati che trattano con me ha messo da parte tutta una serie di discorsi che oggettivamente sono vecchissimi e ci stiamo ponendo la domanda di come si fa a creare lavoro come si fa a creare lavoro perché l'ha detto lei prima non è che siamo diventati più ricchi di prima va bene allora tutta una serie di impostazioni che erano dei dogmi della fede no perché no no perché non possiamo accettare una cosa del genere ecco a questo punto sediamoci parliamone noi stiamo affrontando per esempio un dogma che era è possibile introdurre simultaneamente un concetto di contratto di solidarietà per chi non è esperto lavoriamo tutti un'ora in meno accettiamo di essere remunerati un pochino in meno e non non prendiamo questi soldi per generare un risparmio ma con il risparmio assumiamo dei ragazzi giovani è un patto intergenerazionale perché non si può fare te che quando siamo seduti con il sindacato hanno detto ma tu mi garantisci che a fronte di un risparmio di x ore di lavoro che equivale a x giorni uomo che equivale a x lavoratori tu davvero mi assumi x lavoratori certo che nella misura in cui gli dico sì scusa non ce n'è più ma non ce n'è più per nessuno allora io credo che questo è il momento in cui che poi mi scusi è esattamente quello che è successo in Brasile aver ridotto le scuse a zero quando non c'è più scuse se non lo fai ti devi porre delle altre domande forse sei inadeguato questo è anche perché il governo ha tolto una sponda al sindacato presentandovelo presentandovelo in dovere di mettersi in partita con voi perché fino a ieri non è che il sindacato fosse guidato da persone diverse da quello che lo guidano oggi ma aveva una sponda nel pubblico per cui compensava le asperità le asprezze la parte dottrinale succhiando denaro dalla spesa pubblica ma io le ho già promesso la parte politica di questo discorso lo facciamo l'anno prossimo perché l'anno prossimo a un anno e mezzo di distanza potremo fare un esame più compiuto e senza dire genericità c'è qualcosa che le chiedo una considerazione extra il suo campo di azione di giudizio sull'Europa il nostro atteggiamento sull'Europa il problema del debito pubblico c'è qualcosa che mi preoccupa in questa fase però appunto fa parte dell'impressione è che noi di nuovo stiamo rispostando il discorso sul debito pubblico e sul taglio della spesa pubblica in una richiesta alla Germania di allentare in qualche modo i cordoni della borsa io quando sento questi discorsi so dove vanno a parare che noi per quello che riguarda noi abbiamo contratto un debito io lo continuo a ripetere abbiamo contratto un debito e chi fa i debiti li paga tanto più se sono debiti con le future generazioni noi abbiamo contratto un debito enorme anzi abnorme un debito assolutamente illecito con cui abbiamo pagato gli anni 70 80 e 90 e questo debito è venuto ed è un debito con i nostri figli un debito con i figli e i nostri figli ed è venuto il momento di pagarlo di trovare un modo di fare l'economia che anche lei che ognuno fa nelle sue aziende anche io nella mia lei nella sua quando sento che il problema si risolve certo che poi bisogna creare occupazione ma non si crea occupazione chiedendo a un operaio di Hannover di pagarci lui questo debito e l'operaio di Hannover non ci pagherà mai questo debito e l'idea che tutto il problema sia di andare dalla signora Merkel perché convinca Schäuble a allentare i cordoni della borsa è un'idea demagogica e ingenua però sospendo il giudizio vedo che questa idea che non ci sono mai stati tanti keynesiani quanti in Italia in questo periodo sembra che tutti siano stati a scuola John Mayer Keynes che tutti vogliono che la risorsa di tutte è riprendere quella spesa pubblica aumentarla ricominciare buttare i soldi l'abbiamo già fatto sappiamo come è finita e oggi il partito della responsabilità è in minoranza lo vede lei questo pericolo? domandona allora può darmi la metà della risposta l'anno prossimo? no no ci proviamo ci proviamo in fretta faccio una premessa nel senso che sì il valore dello stock del debito è un tema rilevantissimo poi vediamo un attimino vediamolo in un orizzonte pluriannale il valore del debito è importante nella misura in cui discutiamo della capacità di ripagarlo questo debito non di azzerarlo questo debito non si deve parlare di un sistema dove non debbano esserci debiti ma dobbiamo parlare della sostenibilità di questo debito quindi finché un debito è sostenibile il problema è un problema relativo ora la riduzione del debito del rapporto debito-pil è proprio quella della discussione di un rapporto ovvero noi possiamo migliorare il rapporto debito-pil riducendo il debito aumentando il pil fin tanto che noi parliamo delle modalità per ridurre il debito abbiamo parlato in metà della soluzione che deve essere guardata per l'amor del cielo deve essere assolutamente presa in considerazione poi bisogna ragionare su come si fa crescere un pil e questo mi sento più più vicino al mondo delle imprese perché il mondo delle imprese sostanzialmente dicono io faccio un piano industriale sul come far crescere la mia azienda e un piano industriale può includere il fatto che io faccia degli investimenti per creare delle condizioni per la generazione di pil però attenzione sto facendo degli investimenti non sto facendo dei costi perché con i costi è difficile che io faccia crescere la mia azienda nel futuro io all'inizio di questa conversazione dicevo siamo tornati a investire e con l'essere tornati ad investire nessuno parla più del mio debito perché ma non perché non c'è più ma perché la gente sta dicendo sta ponendo le basi per un futuro in cui come minimo stabilizza la sua base di ricavi o pone le condizioni per poterle far crescere e qui viene di nuovo un grande tema ovvero all'interno di un'azienda quello che si dice è prendi i costi cerca di ridurli il più possibile tutti quei costi che sono dei costi di sovrastruttura prendi gli investimenti e fai tutti gli investimenti che devi fare per entrare nel tuo futuro business model allora mutatis mutandis non la vedo molto diversa che è una prospettiva però differente da quella da un dialogo radicalmente differente allora se noi entriamo in una prospettiva che dice prendiamo i costi o se volete le spese correnti troviamo il modo per avere un sistema con maggiore equilibrio futuro allora mi chiedo scusa non è che ci non voglio insegnare niente a nessuno anche perché non è il mio mestiere ho già abbastanza problemi con i miei ma come fa un'azienda un'azienda dice prendiamo le prime dieci categorie di costi e iniziamo a guardare quelle è inutile che parto dal toner delle fotocopiatrici se è la mia millesima voce di costo parto dalle prime dieci allora se uno dei costi principali è il welfare o vogliamo dire la sanità diciamo la sanità ne capisco oggettivamente abbastanza poco mi sento di dire che andiamo a vedere se facendo degli investimenti oggi riesco a ridurne strutturalmente il costo in futuro strutturalmente perché altrimenti non ho fatto non ho fatto un grande un grande investimento ecco io credo che questo discorso dove prendiamo i costi guardiamo i costi prendiamo gli investimenti li ragioniamo in una logica può portare ad un discorso di equilibrio strutturale o di patto di stabilità o chiamiamolo come vogliamo decisamente più moderno il secondo tema che però mi sento di porre è lei ha fatto cenno a perché su questo per me è veramente un mantra ne sono assolutamente convinto se noi prendiamo l'Europa l'Europa di fatto è un'Europa monetaria abbiamo fatto una una comunità europea monetaria quindi non è un grande una grande sorpresa se le uniche politiche che riusciamo a fare sono quelle che fa Mario Draghi di politica monetaria perché è un'unità monetaria ora se noi vogliamo fare una riteniamo che sia importante una politica industriale europea cosa intendo per politica industriale europea intendo settore primario in Europa dove si fa? Manifatturiero in Europa dove si fa? Terziario in Europa ma prendiamo delle decisioni sviluppiamo un dibattito enorme attenzione per sviluppare un dibattito vuol dire che i migliori politici di ciascun paese non stanno nel proprio paese stanno a Bruxelles perché è lì che si deve spostare la scelta di allocazione delle risorse e a questo punto potremo parlare di una politica industriale europea ma se non si fa questo noi siamo arrivati a sprofondare molto nel riguardo nel senso che la domanda che ci poniamo oggi è tutti pensiamo che sarebbe bene avere una unità politica non monetaria europea o il più politica possibile le grandi scelte fatte in Europa ma se non ci si arriva che facciamo noi ci treniamo questa moneta unica che galleggia indietro non si può tornare no forse ci siamo messi in una trappola mortale nel senso ci sono delle vie intermedie no ci sono delle vie intermedie per esempio quando noi parliamo di sistema delle regole iniziamo a livellare le regole all'interno dell'Europa abbiamo ancora troppe differenze all'interno dell'Europa che permettono degli arbitraggi intraeuropei se io prendo un'azienda e la metto in Irlanda ho un trattamento fiscale diverso dal fatto che io la metta in Italia e in Francia se io ho un sistema di tassazione piuttosto che ho una politica del lavoro piuttosto che una politica di welfare diversa stato per stato altero l'equilibrio di allocazione delle risorse allora prima di parlare di una unità politica che oggettivamente lo sa meglio di me la vedo oggettivamente piuttosto improbabile e per chiunque abbia vissuto negli Stati Uniti sa che anche gli Stati Uniti sono un'unità politica tenuta assieme con lo scotch ecco il vero grande tema che forse dobbiamo porci è noi possiamo riuscire a definire degli ambiti come per esempio si è fatto nel mondo finanziario nel mondo della normativa bancaria che si sta andando verso una maggiore livellazione europea si può fare la stessa cosa sul mondo tributario sul mondo delle regole del mondo del lavoro della flessibilità del lavoro si può fare la stessa cosa sugli ambiti regolatori perché se la risposta almeno in parte è positiva andiamo verso una migliore allocazione di risorse all'interno dell'Europa grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti